Tantissimi fedeli hanno partecipato alla processione in onore della Madonna della Luce accompagnata dai giganti Mithi e Kronos. Quella dell'8 settembre è una data molto importante per la comunità dei fedeli amastratina, poiché la festa della Madonna della Luce è una tradizione religiosa antichissima, storica e a cui i devoti amastratini sono molto legati. Erano in tantissimi fedeli che hanno iniziato il corteo processionale, che si è snodato per le vie del paese, dal classico itinerario delle processioni di Mistretta, per poi percorrere via Numea e le strade che hanno portato la processione fino al cimitero, presso il santuario dedicato proprio alla Madonna della Luce. Molto suggestivo è il percorso della processione, che è diventato ancora più bello ed emozionante quando è stato illuminato dalle fiaccole accese dai fedeli, che intanto accompagnavano la Madonna della Luce con preghiere e litanie, intervallate dalle musiche del complesso bandistico Città di Mistretta. Presso lo spiazzale antistante santuario della Madonna della Luce, due ali di folla hanno atteso l'arrivo del corteo processionale e un grido si è elevato al cielo, viva Maria, viva Maria Santissima della Luce. E durante la sua meria, Monsignor Michele Giordano ha voluto proprio ribadire come la città di Mistretta sia sempre stata legata alla Santa Vergine e non deve dimenticare mai di affidarsi alla Madonna, sempre, in qualsiasi momento. Dopo la benedizione e l'entrata a santuario del simulacro della Madonna della Luce, la festa si è chiusa con l'attesissimo ballo dei giganti, Cronos e Mitia, che sono stati fatti danzare con maestria dai bravi portanti, i Gesantali, che con sacrificio, abilità ed equilibrio, dopo aver accompagnato per tutta la processione la Madonna della Luce, hanno fatto ballare i due colossi di vetro resina, tra gli applausi e l'ammirazione dei tantissimi presenti, che sono stati illuminati e riscaldati dal tradizionale Falò, che è stato acceso proprio all'arrivo della processione della Madonna della Luce.